Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde In questo video vi farò vedere un bug stranissimo, un bug inutile su GTA V Online per tutte le console con la pagina 1.27 1.32 Questo ragazzi non è un bug qualsiasi, questo ragazzi è un bug che funziona dall'inizio del gioco ed è un bug impacciabile diciamo, perché fa proprio parte di GTA voi ragazzi appena prenderete una minigun in mano come noterete il vostro personaggio la terrà con due mani come ovvio che sia Quindi ragazzi in questo caso vi farò vedere come il vostro personaggio potrà tenere in mano una minigun o comunque sia un qualsiasi altro tipo di fucile che sia anche lanciarazzi con una sola mano per pochi secondi Ragazzi vi basterà solamente prendere una minigun in mano o qualsiasi fucile o lanciarazzi o comunque sia l'arma che volete far baggare con una sola mano del vostro personaggio dovete avere una montagna o comunque sia qualcosa di alto davanti a voi vi consiglio una montagna comunque sia dovete correre con in mano il fucile che appunto volete baggare e automaticamente il vostro personaggio vi farà diciamo andare indietro e quindi ragazzi come potete vedere il vostro personaggio una volta tornato indietro quei pochi secondi avrà il fucile che sia la minigun lanciarazzi o qualsiasi fucile in mano con una sola mano appunto ecco e quindi potete fare questa animazione giusto per cazzeggiarci un po' ecco non per fare moltissime cose neanche per divertirsi perché comunque non è un funny glitch non è un bug che si può divertire però comunque sia se appunto non avete un cazzo da fare volete magari fare una clip così ragazzi giusto per ma non serve a molto e per questo che ho detto bug inutile però comunque sia diciamo che è figo vedere quei pochi secondi personaggio che tiene in mano un lanciarazzi o una minigun o comunque sia un fucile con una sola mano perché comunque è strano vedere appunto un personaggio su GTA che appunto tiene in mano un fucile appunto con una mano e quindi proprio per questo ho voluto caricare questo video anche se comunque ripeto è un bug molto inutile però comunque sia dato che io porto sempre tutti i glitch tutti i bug ho voluto caricare anche questo stupido bug inutile quindi niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero veramente spero lasciate un like un commento iscrivetevi al canale se volete passate nella mia credito or cover troverete i link in descrizione per giocare insieme inoltre se volete aggiungermi il mio video l'antensi 4 or cover sempre iscritto nella descrizione e da or cover è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti